Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 327 Eli Weasel nacque in Romania. Appena adolescente venne catturato dai nazisti e portato prima ad Auschwitz e poi a Buchenwald. Nel suo libro Night, la notte, Eli racconta gli orrori subiti, la morte dei genitori e della sorella di otto anni e la distruzione della sua infanzia per mano di mani crudeli. Nella prefazione del libro, François Mouriac racconta «In quel giorno terribile tra tutti gli altri giorni terribili, Eli assistette all'impiccagione di un altro bambino. Sì, proprio così. Quel bambino aveva il volto di un angelo triste. In quel momento, Eli sentì qualcuno dire piangendo «Dov'è Dio?». François Mouriac continua «In quel momento io credevo in Dio». Che cosa avrei dovuto dire a Eli? Avrei dovuto parlargli di un altro giovane ebreo crocifisso che forse gli assomigliava e la cui croce ha conquistato il mondo? Avrei dovuto dirgli che Dio era lì anche lui appeso a quel patibolo? Avrei dovuto spiegargli che quella che era stata una pietra d'inciampo per la sua fede era diventata una pietra angolare per la mia? E che il legame tra la croce e la sofferenza umana rimane, a mio avviso, la chiave del mistero insondabile in cui si è persa la fede della sua infanzia? Questo è ciò che avrei dovuto dire a Eli ma che non ho detto. In quel momento non ho potuto fare altro che abbracciarlo e piangere». Le parole di François indicano la risposta più profonda alla domanda «Dov'è Dio?». Dio è in Cristo. Egli era sulla croce e portava i nostri peccati nel suo corpo. Ora il crocifisso è in mezzo al suo popolo. Non ha solo sofferto per noi, ma ora soffre con noi». Nell'Antico Testamento, il Tabernacolo e più tardi il Tempio, era il luogo in cui le persone incontravano Dio. Come vedremo nel brano dell'Antico Testamento di oggi, era la casa di Dio. Il messaggio del brano del Nuovo Testamento, però, è che la gloria e la presenza di Dio si trovano soprattutto in Gesù. È proprio nel momento in cui Gesù viene rifiutato e crocifisso che la presenza di Dio tra gli uomini si realizza finalmente e pienamente. Da quel momento in poi non ci sarà più bisogno di un Tempio fisico. L'unico edificio ecclesiastico di cui il Nuovo Testamento parlerà sarà un edificio fatto di persone, fondato e costruito su Gesù, la pietra angolare principale. Il Tempio Santo del Nuovo Testamento è fatto di pietre vive, cioè di persone come me e come te. Questa è la nuova casa di Dio. Commento ai sapienziali. Trovare la casa di Dio. Il desiderio del cuore di Davide è di onorare Dio e di metterlo al di sopra di tutti i beni materiali. Non entrerò nella tenda in cui abito. Non mi stenderò sul letto del mio riposo. Non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non avrò trovato un luogo per il Signore. Il popolo risponde dicendo, entriamo nella sua dimora. Prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Il Signore ha scelto Sion, la voluta per sua residenza. E il Signore dice, questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Signore, desidero la tua presenza. È così bello prostrarsi allo sgabello dei tuoi piedi. Grazie, perché nel giorno di Pentecoste, quando lo Spirito di Dio è stato effuso, la tua presenza è venuta ad abitare in noi e in mezzo al tuo popolo. Commento al Nuovo Testamento. Trovare Dio in Gesù. Gesù ha cambiato ogni cosa. Egli è la pietra angolare di un nuovo edificio, un edificio fatto di persone, avvicinandovi a Lui pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio quale pietre vive. Siete costruiti anche voi come edificio spirituale. Molti oggi trovano in Gesù una pietra d'inciampo. Altri invece ne fanno la pietra angolare della propria vita nella quale riporre la propria fiducia. Chi crede in essa non resterà deluso. A tutti coloro che credono, Pietro sta dicendo che siamo chiamati ad essere le pietre vive che compongono l'edificio spirituale, costruito attorno a Gesù. Recentemente sono rimasto molto colpito da questa immagine della Chiesa come casa di Dio. Quando incontriamo Gesù, ritorniamo a casa. Questi versetti approfondiscono questo passaggio. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Alla luce di questo, siamo chiamati a vivere in modo diverso rispetto al mondo che ci circonda. Tenete una condotta esemplare fra i pagani. Noi siamo il popolo di Dio. Abbiamo ricevuto misericordia. Ora siamo in guerra, una guerra molto reale. Siamo chiamati ad astenerci dai cattivi desideri della carne, che fanno guerra all'anima. Se ci calugnano e trattano come malfattori, non dovremmo stupirci. Dovremmo invece cercare di vivere una vita che glorifichi Dio. Questo include l'avere rispetto per l'autorità, fare il bene, trattare tutti quelli che incontriamo con dignità, amare la nostra famiglia spirituale, non rispondere agli insulti, sopportare con pazienza la sofferenza e affidarci a colui che giudica con giustizia. Come potremmo fare tutto questo se siamo esseri umani peccatori? La risposta di Pietro è guardare a Gesù. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Gesù cambia tutto. Pietro ricorda Isaia 53 che profetizza il modo in cui il Messia sarebbe morto al posto del suo popolo. Questo è ciò a cui si riferiva quando diceva che la pietra angolare era stata scartata. Gesù è la pietra angolare della nostra fede. Ed è grazie a Lui che possiamo accedere alla presenza di Dio. La croce, il luogo della sofferenza, è diventato il luogo della salvezza. Signore, grazie per la nuova casa spirituale che stai costruendo e dove posso sperimentare la presenza di Dio. Commento all'Antico Testamento. Trovare Dio nella casa del Signore. Lo Spirito di Dio rende Gesù reale a tutti noi. Lo Spirito mi prese e mi condusse nel cortile interno. Ecco, la gloria del Signore riempiva il Tempio. Gesù Cristo è la gloria di Dio. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Nella sua visione, Ezechiele vede Gesù, la gloria del Dio d'Israele. Il suo rumore era come il rumore delle grandi acque e la terra risplendeva della sua gloria. Dove c'è Gesù, tutto intorno diventa radioso. Alla presenza di Gesù, tutto ciò che possiamo fare è prostrarci e adorare. Guardai, ed ecco la gloria del Signore riempiva il Tempio. Caddi con la faccia a terra. Ogni volta che come popolo di Dio ci riuniamo in adorazione, ad esempio durante il servizio domenicale, dovremmo aspettarci che la gloria del Signore riempia la casa. Questo è il motivo per cui la Chiesa dovrebbe essere sempre entusiasmante, potente e capace di cambiare la vita. Nel leggere di tutti i sacrifici che il popolo di Dio doveva fare per i propri peccati, dovremmo ricordare ciò che il Libro degli Ebrei dice a riguardo, e cioè che questa era una dimostrazione. Queste erano cose raffiguranti le realtà celeste. Erano un'ombra dei beni futuri. Per purificare ed espiare il peccato era necessario un'offerta con sangue. La capra doveva essere senza difetti. Tutto ciò era a prefigurazione del sacrificio perfetto di Gesù per i nostri peccati. Il santo sacerdozio di Ezechiele 44 preannuncia il santo sacerdozio descritto in 1 Pietro 2, 5. Questo ora è il compito di ogni cristiano. Il nostro primo dovere come sacerdoti è di essere noi stessi santi, mantenendoci puri così da essere usati dal Signore. Il nostro secondo dovere è aiutare gli altri a fare lo stesso con il nostro insegnamento ed esempio. Dov'è Dio? È in noi per mezzo del Suo Spirito. Lui è presente quando ci riuniamo nel Suo nome e ci prostriamo davanti a Lui in preghiera, in adorazione e ringraziamento. Signore, grazie perché mi rendi Tempio Santo in cui vivi secondo il Tuo Spirito. Per vivere una vita santa, ho bisogno del Tuo aiuto.